Matteo Giardini e Federico Battaglia pronti per l'avventura americana. Ciao a tutti, sono Matteo Giardini, è il prossimo anno. Studierò all'estero, negli Stati Uniti, in indiano per dieci mesi e volevo ringraziare il Basque Ravenna per questa opportunità. Allo stesso modo anch'io farò un percorso un po' diverso in California, a Los Angeles, però con la stessa opportunità di avere un anno di studi e di basket lì a Los Angeles. Ringrazio il Basque Ravenna per darmi questa opportunità e aspettarmi al mio ritorno l'anno prossimo. Qual è il messaggio che lasciate ai vostri compagni? Intanto solo arrivederci e spero di ritrovarci tutti più cresciuti e migliorare tutto il punto di vista tecnico e la personalità. E appunto è solo un arrivederci. Assolutamente, è solo un arrivederci e spero di cogliere il meglio in questa avventura all'estero e riportare tutto quello che imparerò qui a Ravenna per dare il meglio e aiutare la squadra. Bocca al lupo ragazzi! Grazie!